e chi ne va chi ne va tutti questo video di clash royale ragazzi da una vita mi porto clash royale io continuo a giocarci non più assiduamente come prima ma continuo a giocarci ogni giorno almeno un 3 4 partitelle me ne faccio sempre la season è appena iniziata infatti mancano 32 giorni questa è la stagione 21 per il compleanno royale perché clash ragazzi fa cinque anni e quindi ragazzi andiamo a fare qualche partitella io ormai è da 2 barra tra season che non scioppo più il pass perché perché non ci spiega più così tanto tempo spiega più tempo in altri giochi ma questo non vuol dire che non ci gioco più continuo a giocare allora prima cosa fare andiamo aprire la cassa che magari trovo qualcosa interessante terremoto questi sono buoni che dovrò potenziarli i barbara non interessano la torre bombarda tanto meno magari abbastò leggermente volumeno gli sfonda le orecchie ok meglio allora siamo a 5029 quindi non siamo messi né benissimo né malissimo attualmente la classifica dice che i migliori sono a 6600 il locale italiano quindi sono a 6300 e il più basso mettiamo il locale così insomma il fondo il più basso sarà 5300 quindi non tanto lontano da noi diciamo io voglio portarvi tre partite e andremo giocare con il primo al mondo l'ultimo al mondo è il primo in italia i deck di questi tre personaggi quindi andiamo a vedere chi c'è speriamo di avere le carte maxate poco ci manca se no è una fregatura e speriamo che vada bene quindi iniziamo subito deck dell'attuale primo al mondo il primo al mondo si chiama ld e non è non è quella non è la droga ma è un'altra cosa quindi lasciate perdere non fatevi strani idee ld loving day usa questo mazzo copiamolo nel slot 5 in colla e ci ho tu mazzato allora è un lavaloon un po particolare proviamo sto lavaloon dai dai andiamo a farci male proviamo sto lavaloon carina la nuova schematica regamento con le 5 allora siamo contro portos 91 io inizierei a ciflare la goblin gang così ottimo ottimo andiamo di qua andiamo di minazio credo dirvi buono ora dai sgherri vediamo un po si ha delle frecce cattivissime beh no però mi ha fatto male bombarolo bisogna darmi una mano sì quelli spiriti del fuoco sono veramente rompiballe però bei dannetti anche noi abbiamo fatto eh io qua onestamente andrei così goblin gang a destra non so per quale motivo mi ispira la goblin gang a destra questa non ci voleva questa non ci voleva mannaggia devo mettere la loro dai sgherri qua che si aspetta che si aspettava nessuno io non ho di certo come aspettavo ma porca di quella macca un mazzo che gnome questo conto comunque non posso buttare giù torre? probabilmente si eh ok buttiamo giù torre allora 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 io probabilmente adesso inizio a ciclare il lava loon quindi andiamo di lava clone lava bloom eh esatto esatto il lava loon adesso è buono può far male parecchio devo solo capire lui come vuole devo aspettare ma che devo aspettare andiamo con la race gherri minazio nooo dai dai vediamo un po' se riesco a fermarlo secondo me non riesco a fermarlo è questo dubbio eh anzi ho la certezza che non riesco a fermarlo però vabbè dettagli tecnici però magari riesco ad andare a fare le tre corone che è quello che mi interessa ovviamente fare le tre corone non ho altro modo eh devo provare le tre crown devo sperare nelle tre crown devo sperare nelle tre crown devo sperare nelle tre crown mamma mia mamma tua mamma sua l'ho girata bene questa ragazzi l'ho girata bene eh non ti può dire nulla questo l'ho giocata bene dai eh no l'ho giocata bene l'ho giocata bene l'ho giocata bene l'ho giocata bene 5059 ok allora ragazzi primo al mondo ultimo al mondo anzi no andiamo a fare il primo in Italia il primo in Italia attualmente è un ceduit quindi un clash to hit direi dark dc che mazzo usa questo? io non ce l'ho maxato quello ce l'ho al 12 vabbè dai il 12 ci si può provare siamo ancora coppe relativamente basse siamo contro dingle 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 no quello twinkle twinkle allora io di solito i mazzi capanna goblin inizio a ciclare la capanna goblin non so voi a me non sembra una stupida idea ciclare una capanna goblin no e poi mettiamo un cuccio di drago così non mi rompe le balle troppo si spera appena detto appena detto bello bello che arrivano danni stregone di ghiaccio secondo me ha fatto una pippata ma mannaggia barrile barbarico ok buono io io terrei la la tornato no dai eh la peppa ma che mazzo contro ma che mazzo contro non me lo sperate che mazzo contro devo muovermi ti prego principe 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 va avanti ok devo sperare adesso di fare danni col principe ok i danni entrano entrono bei danni entrono bei danni forse il bacio torre non lo so no come l'ho detto però adesso ho il vantaggio posso caricare come caratteri di lui allora i barbari ai barbari che mi rompono le balle a far paure barbari se i barbari veramente mi rompono le scatole come non mai i barbari veramente rompono le scatole a far paure e panico ok pulmine va bene va bene finchè mi toglie il più il più pericoloso mi sta anche bene andiamo di qua ok ecco questo non dovrà io non vorrei io non utilizzerei sinceramente ancora la tornato no questo ragazzi mi dispiace questo era impossibile da vincere secondo me punto di vista mi counterava troppo dingle dingle vabbè bravo dingle che devo dirvi bravo dingle andiamo allora ho fatto il primo Italia il primo al mondo ultimo al mondo io ragazzi farò ogni volta possibilità diversa non lo so l'ultimo al mondo è che usa un deck un deck rotto mi piacciono deck con la cimitero mi piacciono però ci ho maxato vediamo cimitero cimitero goblin goblin cage e freeze vediamo e stavolta non ho manco da vabbè io terrei la what mannaggia che male mi fa che ho pure canato a gelo dai però io vi ho detto che non posso usare i matti cimitero lui poi ha avuto una ripartenza cattivissima nei miei contro come la giro sta partita come la giro mettiamo la gabbia goblin qua andiamo così no mollami andiamo così gelo no ragazzi no non so usarlo non so usarlo il matti cimitero non so usarlo penso che si sia visto il matti cimitero dopo sono incapace di usarlo peccato peccato vabbè 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 non è un problema dai e vabbè vabbè io spero comunque che il ritorno a clash royale anche se è stato un ritorno con fail mi possa essere piaciuto e dove va scusi come vada mi lascia mi lascia il pace non so non so usare non so usare non so usare no ragazzi non so usare vabbè comunque io spero che il torno che suoi vi sia piaciuto vi ringrazio per l'inizio e vi ricordo di commentare se non mi piace come un video scrivere e attivare la campanella detto questo vi saluto e spero che alla prossima volta possa andare meglio addio e grazie per il pesce ciao ragazzi al prossimo